Siamo con Gimmi, intanto ti ringrazio per concedersi questo minuto durante la partita. Questo è il tuo primo approccio a palla al centro, il tuo gruppo come nasce? Nasce tutto da un'idea, da un'idea campata in aria e in sei ore si è fatto mezza squadra così perché si è iniziato a guardare Facebook. L'obiettivo è divertimento come tutte le squadre, quindi vince chi si diverte di più, anche voi. Stai seguendo anche la partita. Allora Gimmi, qual è la caratteristica più bella della tua squadra? E' che si cerca di essere più calmi possibile e sportivi più possibile. Quindi cosa raccomandi a tutti? A tutti di non essere troppo agonistici. Perfetto, quindi è l'ideale per palla al centro, quindi questo si sposa benissimo con l'idea organizzativa di palla al centro. Io ti ringrazio per ora, intanto non mancherà l'occasione altre volte, anche durante la stagione sportiva. Grazie Gimmi di nuovo. Arrivederci a tutti. Sì, brode! Sì, sì!